BASICNET Sono entrato in BASIC nel 1993 facendo il line manager per la starter e la linea K per rientrare poi in azienda in aprile seguendo il corso di formazione utilissimo per vedere l'evoluzione di questa azienda e abbiamo visto come è facile applicare il sistema di PlugSL anche qui in Grecia. Abbiamo lavorato in team insieme con Elisabetta Rolando e tutto lo staff di BASIC per realizzare questo progetto e partire con l'estero. Il sistema Plug&Cell non cambia e le implementazioni sono create nell'ottica di gestire e sviluppare il progetto anche in altre nazioni della comunità europea. Lo shop management del negozio è tradotto nella lingua ufficiale del gruppo, l'inglese, mentre le grafiche dei factotum e i plasma sono tradotte anche in greco. Anche all'estero il negoziante può usufruire delle proposte commerciali standard del B-Retail. La gestione logistica ha le stesse tempistiche dei negozi italiani. L'offerta per i clienti del nuovo RDK 137 Mykonos è lo sconto di benvenuto del 15% con almeno 100 euro di spesa e il rilascio della BASIC CARD. Il format di layout a redi e immagine non cambia ma viene adattato in base alla struttura della location e alle relative regolamentazioni locali. Il format di QTSS